Agosto non ferma la manutenzione ordinaria, programmata dal Consorzio di Bonifica 2 e Alto Valdarno, su torrenti e fiumi che scorrono sul territorio del comune di Arezzo. In tutto interventi per circa un milione di euro per sistemare quasi 140 chilometri di corsi d'acqua. In corso anche diverse attività di carattere straordinario, finanziate con risorse pubbliche, che permetteranno il miglioramento della sicurezza idraulica nel territorio. A partire dal primo di luglio ad Arezzo, come nel resto del comprensorio del Consorzio 2 e Alto Valdarno, sono partiti i lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d'acqua, nel pieno rispetto delle norme vigenti, ma anche con una grande attenzione da parte di tecnici e operatori per coniugare l'interesse idraulico con l'interesse di salvaguardia degli ecosistemi fluviali. I cantieri sono partiti in tutto il territorio del comune di Arezzo, nella zona di Rigutino, sul rio Grosso, sul rio di Vitiano a Frassinetto, così come è stata già effettuata la manutenzione del fosso di Covole e del torrente Sellina nel tratto a Monte. Successivamente seguiranno le manutenzioni nella zona nord della città, come il torrente Maspino e il Gavardello, e nella zona di Ponte Achiani-San Giuliano con il torrente Lota e il torrente Vingone di San Giuliano per citare i principali. Sono comprese nel piano delle attività anche le manutenzioni delle casse di espansione dei torrenti Castro e Bicchieraia che prenderanno avvio prossimamente.